buongiorno e ben ritrovati voi tutti cari amici bene facciamo il punto della situazione sulla nuova ipotetica card di frestelmania 36 goldberg contro brown stroman per il titolo universale di smackdown becky lynch contro china buzzer per il titolo di roo femminile di categoria detenuto da becky lynch real replay versus the queen charlotte flair per il massimo titolo femminile di nxt belli contro lesi evans contro naomi contro tamina contro sasha banks in un fatal five way per il massimo titolo femminile di smackdown da definire il match per i titoli di coppia di smackdown per i titoli di coppe di roo gli street profits contro angel guards e austin theory elisa black contro bobby lazily elias contro king corbin edge contro randy hort in un last man standing match john cena contro the fiend bray wyatt the undertaker contro jay stasio in un boneyard match che potrebbe essere una nuova versione del barri dal live match e infine kevin owens contro set rollins comunque consiglio che vi do continuiamo a vedere le ultime puntate di roo e smackdown e poi vediamoci presto almeno così capiremo tutto ancora meglio ciao a tutti buon fine settimana e buona giornata ciao ciao a tutti buon fine settimana e 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 buon